Diciamo che il nostro ruolo di dottori commercialisti è fondamentale proprio anche nella gestione di queste aziende ricordo che appunto dal termine ospedali si è passati già da un po' al termine di aziende sanitarie per cui il commercialista ha un ruolo importante in tutte le fasi, anche nelle fasi organizzative occorre tenere presente il tipo di aziende, se si tratta di aziende private, aziende pubbliche aziende sanitarie intendo private o pubbliche per cui oggi diciamo è un momento di confronto è chiaramente un tema destinato a una nicchia di colleghi che lavorano presso queste aziende non solo in qualità di consulenti ma anche in qualità di componenti del collegio sindacale per cui sarà sicuramente un momento di confronto interessante e da oggi diciamo diamo il via a una serie di incontri e oggi verrà anche annunciato un corso che partirà dal mese di ottobre proprio in materia di management sanitario